Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Quest'oggi ci troviamo tra le splendide montagne della Valsassina per risolvere il problema di una TV che essendoci da poco è stato il passaggio con il nuovo segnale digitale terrestre purtroppo la TV è una TV a LED ancora abbastanza recente ma allo stesso tempo non sufficientemente recente per poter ricevere il segnale di VTB2 e piuttosto che cambiare completamente TV ho preferito optare per un decoder una cifra risoria di circa 30 euro ho preferito questa opzione e oggi andremo a configurarlo, a installarlo e soprattutto a configurare il telecomando perché ho scelto un decoder con il telecomando a doppia funzione cioè con un unico telecomando si può controllare con le funzioni base sia il TV stesso che il decoder ma come sempre prima di cominciare mettete un bel like e iscrivetevi al canale venite con me ok la TV che ho intenzione di recuperare al posto che sostituirla è questa LG classica LED da 32 pollici e per recuperarla, cioè per poterla vedere nonostante sia cambiata la trasmissione digitale terrestre ho comprato per 30 euro questo iZAP T366 classico decoder con ingresso USB per soggente esterna per vedere filmati, video o quant'altro presa SCART, presa HDMI ingresso antenna TV e questa aveva anche la funzione per poter collegare il cavo Ethernet per collegarsi alla rete Internet all'interno della confezione troviamo il decoder il telecomando, il manuale di istruzioni e le batterie per il telecomando ma quello che mi ha fatto scegliere questo decoder è stato il fatto che aveva il telecomando con dicitura telecomando universale perché come vedete ha due pulsanti di accensione e spegnimento uno relativo al decoder stesso e uno relativo al TV come dice qua, TV control come vedete tutti i tasti all'interno di questa cerchiatura sono funzioni che si possono configurare affinché con un solo telecomando comandate sia il TV che il decoder o meglio sorgente volume meno, volume più e questo è il settaggio per memorizzare i vari tasti e ovviamente accensione e spegnimento e tutto il resto delle funzioni sono relative al decoder ok per corregarlo è sufficiente inserire lo spinotto per l'alimentazione del decoder stesso io anziché la SCART preferisco l'HDMI infatti ho comprato per 7 euro questo cavo HDMI logicamente dovete controllare che la vostra TV sia dotata di almeno un ingresso HDMI quindi ecco qua perfetto colleghiamo l'antenna TV così è tutto pronto alimentazione HDMI collegata al TV e cavo antenna al decoder selezioniamo HDMI prima installazione ricerca canali modalità ricerca di VTB2 e diamo l'ok ecco qua siamo arrivati al 100% perfetto ora ora quello che voglio fare è duplicare le funzioni basilari cioè accensione, spegnimento e volume del del telecomando della TV per far questo bisogna premere e tenere premuto per pochi secondi il tasto set come vedete la spia si è accesa più forte a questo punto premiamo il tasto accensione spegnimento come vedete la spia ha cominciato a lampeggiare lo poniamo di fronte all'altro telecomando quello della TV e premiamo il tasto power fino a che fa un doppio lampeggio veloce a questo punto ripremiamo il tasto set e dovrebbe aver duplicato il comando accensione e spegnimento della TV proviamo perfetto quindi abbiamo duplicato il tasto accensione e spegnimento del telecomando della TV sul telecomando decoder ora proviamo a spegnere la TV direttamente col telecomando del decoder perfetto quindi così come abbiamo duplicato la funzione accensione e spegnimento facciamo per il tasto volume e e selezione sorgente premiamo mettiamo premuto il tasto set quando la luce aumenta l'intensità selezioniamo il tasto ad esempio volume meno ponendolo di fronte all'altro telecomando tasto volume meno perfetto ora è diventata fissa ripremiamo set e a questo punto abbiamo clonato il comando volume meno facciamo così per tutti i tasti perfetto diciamo che con 30 euro di investimento abbiamo recuperato una TV che sarebbe stata destinata alla rottamazione sarebbe stato un peccato perché comunque la TV si vede bene devo dire che avevo recuperato anche un'altra TV Samsung con un altro tipo di decoder che ho pagato ancora meno forse 18-20 euro all'esse lunga della marca Oblivion ma che benché di marca diversa aveva sempre lo stesso telecomando con la doppia funzione per clonare i comandi base della TV sul telecomando del decoder il che è una comodità perché soprattutto per la gente anziana ok avere in giro due telecomandi è più scomodo con questo invece si recupera la TV vecchia e allo stesso tempo si utilizza un telecomando solo comunque niente come sempre se vi è piaciuto il video mettete un bel like se volete supportarmi condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale un saluto dal vostro MaxReview a presto ciao